Sì, ho iniziato 20 anni fa, nel 2002, ho iniziato proprio dalla base perché facevo il promoter proprio in tabaccheria, ho avuto modo poi di crescere all'interno dell'azienda, poi negli anni l'azienda si è ingrandita, si è evoluta e siamo riusciti sempre ad avere sempre le persone più formate, quindi abbiamo puntato sempre sulla formazione dei nostri colleghi, sulla mia formazione in primis e quindi questo ci ha permesso poi di evolverci veramente e diventare sempre più specializzati nel mondo del tabacco. Grazie